Balla ragazzi benvenuti qui sul mio canale, oggi andremo a giocare a Call of Duty Advanced Warfare Premetto che il gioco non è mio perché comunque molti me l'han consigliato, molti miei amici Dai è bello è bello è bello però se non mi piace io non lo compro neanche quindi me lo son fatto prestare Ringrazio il mio amico che me l'ha prestato Premetto che non sono un fenomeno nel giocare però ce l'ho da due giorni sto gioco Ho iniziato un attimo a giocarci, portarmi avanti, ve lo sto portando sul canale Scusate i capelli ma me li vado a tagliare fra poco eh non vi preoccupate Eeeh c'è un problema Il servizio di Call of Duty Advanced Warfare nel momento disponibile riprova in seguito Mabba f***a Non funzionerà mai non funzionerà mai Tra l'altro ragazzi spiegatemi sta Eeeh è andato Dai troviamo una partita facciamo un deathmatch a squadre dai Sicuramente la partita sarà già iniziata sicuro Oddio là ce ne sono due Eh vabbè erano cinquanta persone cioè Dobbiamo cercare di Allora questo è nostro Andiamo 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 Ah vabbè ma cosa aveva in mano Vabbè io non capisco Come faccio ad ucciderli se sono vicino a me Vabbè Guarda quanti sono Abbiamo vinto dai Buono 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 Sì Vediamo cosa abbiamo nella cassa Oh 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 cos'è sto robo Non la metto nel video Cosa qui non la metto nel video giuro Ragazzi capitemi È da due giorni che sto giocando a sto gioco È abbastanza complicato per me È già un gol Ne ho uccido uno mi ammazzano Ma perché Due colpi A me ne servono 27 di colpi per ucciderli L'ho due Due colpi e sono morto Signori che killer Oh L'ho preso L'ho preso al volo Oh Due regà Oh no cavolo Oh Partitona questa qui eh Vabbè oh Vabbè Ok Buono così Ragazzi Poi ci sono quelli lì che giocano da tanto tempo Che è normale che Cioè Che è normale che mi uccidano eh Perché cioè Adesso Io sto giocando da due giorni Non è che pretendo di essere più forte di loro eh Per l'amor di Dio Gran cua Preso No da dietro No da dove Cuno lo prenda Ok l'ho preso io Da dove Da dove Eh vabbè dai Ma questi qua con un colpo mi uccidano Ok 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 preso 97 Vai L'ho ucciso io l'ultimo Bella partita Bella partita però Eh l'ho ucciso io Grande L'ho ucciso io l'ultimo Fantastico Ho concluso la partita io 1750 punti Non è uno dei punteggi migliori Però dai Vi ripeto che il gioco ce l'ho da due giorni Se questo gioco mi appassiona Sicuramente vi porterò Cioè mi comprerò Infinite Warfare O Infinite Warfare Come volete voi Se avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Bella Ciao 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 Ciao